Dopo l'incontro di informativa sugli organici tenutosi oggi con l'ufficio scolastico regionale Abruzzo, sono state ufficializzate le emissioni in ruolo per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole abruzzesi per l'anno scolastico 2023-2024. Sul personale ATA, la FLCCGL Abruzzo Molise ha chiesto in più occasioni un incremento di organico e la stabilizzazione del personale che possa consentire alle scuole di affrontare meglio le tante inconvenze quotidiane. In particolare, nelle segreterie, la complessità del lavoro amministrativo ha superato livelli di guardia anche a causa degli adempimenti legati all'attuazione del PNRR e dell'elevato numero di personale con contratti a termine. Al contrario, le emissioni in ruolo che si svolgeranno nei prossimi giorni sono nettamente inferiori alle disponibilità, in particolare la distribuzione delle assunzioni per le province abruzzesi che verranno attribuite tramite procedura telematica su Polis a partire dal 9 agosto secondo le istruzioni reperibili sui siti istituzionali degli ambiti territoriali prevede un totale di 292 emissioni in ruolo su 811 posti disponibili verranno cioè stabilizzate solo un terzo delle disponibilità. In particolare, Chieti ha stabilizzato solo 96 figure professionali a fronte di 264 posti disponibili tra assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e altri profili. L'Aquila 69 emissioni in ruolo su 197, Pescara 71 su 193 disponibilità e Teramo 56 su 157. In questo modo, fanno sapere dalla FLCCGL, restano irrisolte le criticità relative agli organici che negli anni hanno dovuto subire ripetuti tagli. In Abruzzo, prosegue la nota, nell'arco di 15 anni sul personale ATA è venuto meno il 25% dei posti mentre il carico di lavoro del personale è in costante crescita nelle scuole anche per le esigenze connesse all'attuazione del PNRR e per tutte le altre numerose incombenze che non sono affatto diminuite. A fronte di tali numeri, conclude la nota, e nonostante un primo provvedimento di attribuzione di organico in deroga da parte dell'ufficio scolastico regionale pari a 341 unità, se non ci sarà un incremento di posti in molte scuole, sarà difficile garantire adeguatamente il servizio per l'anno scolastico 2023-2024. Grazie per la visione!